Ma è dentro, guarda! Ma è dentro tutta la vita! Chiama il challenge. Vabbè. Se il tennis è la tua vita, 19 ore al giorno non sono troppe. Agli internazionali BNL d'Italia vivi il grande tennis e tantissimi eventi collaterali dalle nove del mattino alle quattro di notte. Mi è arrivato l'occhio di falco. Scusi, signor vigile! Ma è dentro? Internazionali BNL d'Italia. Dal 2 al 15 maggio. High Life Tennis.